Ehi, sto a cercare il caffè. Riusci a prendere, eccolo. Infatti lo vedo. Stai bene? Mi sembra che è rosso e bianco. Mi sembra che è rosso e bianco. Mi sembra che c'è andato l'occhio. L'elicottero pare che un attimo ha fatto il giro. E semmai riattiverò il video dopo. Almeno ecco qua la situation. Sto a girare non so quanto. Sto però un attimo il video.